Vuoi informarti, formarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta radionomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org. Ben trovati nella nostra rubrica di bioetica. Oggi continuiamo la nostra pagina di diario sul desiderio di genitorialità. La vediamo un pochettino più a fondo. Abbiamo già detto che quando attuano le tecniche di fecondazione artificiale, gli specialisti non vanno a curare la sterilità, ma aggirano l'ostacolo. Non trattano una malattia, ma un desiderio, il desiderio del figlio. Dovrebbero per primi esserne consapevoli e tenere conto dell'elemento più trascurato nell'ambito della fecondazione artificiale, cioè la realtà del figlio come terzo soggetto. La caratteristica di questo nuovo figlio è che si tratta di un figlio del desiderio, non già del desiderio sessuale, ma del desiderio astratto del figlio che poi un terzo esterno alla coppia ha saputo tecnicamente realizzare. Inoltre il desiderio appare separato da una tipologia familiare di riferimento, cioè il matrimonio, oltre che dalla sessualità. Qui vediamo proprio una separazione tra il desiderio del figlio e il desiderio sessuale perché emergono in periodi separati, cioè come se si trattasse di due formazioni storiche, di due progetti della vita di coppia che certamente sono collegati, ma che ormai sono considerati separatamente, perché rispondono a logiche e a stati di coscienza propri a ognuno. Del resto è proprio in questa dissociazione, se ci pensiamo, tra il desiderio sessuale e il desiderio del figlio che si è eradicata anche la rivendicazione dell'omogenitorialità, cioè le rivendicazioni omosessuali sono una conseguenza della logica del figlio del desiderio. Del resto se il desiderio del figlio è isolato e separato sia dalla sessualità sia dalla struttura matrimoniale, divenendo unico criterio di generatività, perché bisognerebbe imporre dei limiti? Questo allora ci obbliga a una riflessione sul significato profondo del desiderio umano, partendo proprio dall'elemento base. Ogni azione umana cerca di raggiungere qualcosa, si dice omne agens agit propter finem, ciò cui l'uomo tende agendo va più in là dell'oggetto cosciente delle sue intenzioni. Potremmo dire che il desiderio è irriducibile ai desideri, perché li supera sempre, cioè può essere soddisfatto un desiderio, ma non il desiderio. Il desiderio è segno di una sproporzione tra le capacità umane e la realizzazione di esse, è ciò che può essere chiamato il paradosso del desiderio, che è parte costitutiva della vita umana. Nel contesto che stiamo trattando, quello del desiderio del figlio alla luce di un'apparente o reale sterilità degli sposi, spesso si riscontra nell'ambito del counseling come anche la comprensibile frustrazione legata all'irraggiungibilità di ciò che si vuole ottenere. Non si comprende che non è questa la disposizione interiore sana e adatta ad accogliere un figlio, che propriamente non si mette al mondo perché va di averlo, ma perché con generosità e anche sacrificio e dedizione si decide di accogliere qualcuno e lo si fa essere per se stesso, è in fondo ciò che distingue la procreazione umana dalla riproduzione animale. L'accoglienza di una nuova vita ha in altre parole un movimento inverso, cioè è svuotamento di sé per fare spazio all'altro. Non si usa l'altro per il figlio, per saziare un desiderio, per il tentativo di colmare un vuoto. Peraltro questo desiderio abbiamo detto essere intrinseco alla nostra umanità e quindi già di per sé incolmabile, tant'è che tale desiderio non sarà colmato dalla soluzione, cioè in questo caso dalla nascita del figlio. Infatti se non gestito e appagato nel modo giusto, invece di amare e donare se stessi, ci si relazionerà a questo figlio fagocitandolo, un fenomeno noto, visibile non solo nell'ambito della genitorialità, in cui il figlio che soddisfa all'infinito le aspirazioni o l'affettività immatura o le ferite dei genitori, ma anche in generale in tutte le relazioni umane, dove il sentimento, cioè quell'amor come passio, non riesce mai a tramutarsi in amor benevolentie, quell'amore che non cerca il proprio interesse, scrive Paolo, che potremmo tradurre letteralmente le sue cose. La consapevolezza che dietro le quinte del desiderio del figlio c'è in realtà allora una dinamica umana più profonda può aiutare anche a capire che non è cercando di ottenere il figlio costi quel che costi con qualsiasi tecnica pur di raggiungere il risultato cercato e anche a detrimento ovviamente della verità dell'unione sponsale, oltre che della dignità del nascituro, che si colmerà quel vuoto che in realtà si ha dentro. Allora si è provato a dare delle risposte per gestire questa impossibilità di soddisfare, di estinguere il desiderio, ma con false soluzioni. Citiamo solo quelle funzionali al nostro discorso. Una falsa soluzione a questa impossibilità di estinguere il desiderio è innanzitutto l'edonismo che prova a estinguere il desiderio nell'esperienza del piacere. Questo è il caso della coppia che si può sentire di serie B perché è incapace di generale, che si confronta con amici e conoscenti, si scopre l'unica senza figli arrivati a una certa età e che quindi nella fecondazione artificiale cerca un riscatto e un sollievo alla propria frustrazione. Un'altra soluzione inadeguata a colmare questo desiderio è lo stoicismo, quello che tenta di salvare la persona dal desiderio tramite la pateia. In altre parole, se il desiderio non può essere soddisfatto, bisogna vivere al di sopra di esso e la coppia che, dopo numerosi tentativi di ricerca della gravidanza, risponde alla sofferenza che inevitabilmente ha caratterizzato diversi anni del loro percorso di sposi con una sorta di negazione del desiderio di genitorialità, alienandosi da questa mancanza e quindi cominciando a riscrivere l'identità della propria coppia, et si figlius non da retur potremmo dire, sono quelle coppie che sopprimono il desiderio del figlio ma poi prendono un cane e lo trattano come un figlio. La terza soluzione, falsa per il paradosso del desiderio, è quella esistenzialista e di assolutizzazione della libertà. Nel nostro discorso forse questa è la dinamica più nota, è il desiderio del figlio che autorizza con una pretesa di libertà illimitata a ottenerlo a tutti i costi, configurando quello che abbiamo chiamato la volta scorsa delirio di onnipotenza, soprattutto nella donna. È la coppia che è disposta alle pratiche più estreme, che fa del suo desiderio un diritto e quindi un dovere dei medici di assecondarlo. Non c'è limite imposto dall'etica in quanto è la libertà stessa l'unico criterio. Purtroppo sono poi quelle coppie che naufragano in divorzi e depressione, una volta che hanno sperimentato che quel potere che credevano gli venisse da una libertà incondizionata, in realtà li ha condotti nel vicolo cieco unichilista. Interessante notare che da questa analisi nulla ha fatto intravedere invece l'adozione. Difficilmente infatti la coppia che intraprende il percorso della fecondazione assistita, poi non ottenendo il figlio, decide di adottarlo. Questo è un paradosso interessante. Al contrario, la coppia che si accorge di essere sterile ma vuole fare spazio a un figlio per amarlo, per ciò che lui è e non per colmare il proprio desiderio, non fa fecondazione artificiale per nulla, ma imbocca direttamente la via dell'adozione. Qui scopriamo che amor precedit desiderium, è l'amore che trasforma la dinamica del desiderio in speranza ed è questa la vera risposta al desiderio, cioè ciò che precede ontologicamente lo stesso desiderio e il primo principio operativo dal quale sorge l'azione, cioè l'amore originario. Io finisco qui e arrivederci, alla prossima occasione. Vuoi informarti, informarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta RadioNomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org Grazie a tutti.